Una giornata davvero emozionante, il Paglio in Rosa, otto castellane, le otto castellane reggenti del Paglio di Legnano oggi hanno sfilato di fianco a otto donne di sorrisi in rosa che ci hanno raccontato e ci hanno emozionato con le loro storie e da questo Paglio in Rosa abbiamo capito quanto la prevenzione, la diagnosi precoce e la ricerca siano importanti per combattere questa malattia. Sorrisi in Rosa è un progetto che vuole sensibilizzare il mondo femminile attraverso le storie e i volti delle donne che hanno affrontato o stanno affrontando la malattia. Io oltre a essere testimonia di Sorrisi in Rosa sono anche coordinatrice infermieristica e questo mi dà l'occasione di accogliere le pazienti attraverso cancelling psicologici e di prendermene cura dal momento della diagnosi al momento dell'intervento. Come donna di Sorrisi in Rosa cerco di infondere alle donne coraggio, ottimismo e fiducia nell'affrontare la malattia stessa. Avvicinare alla cultura della prevenzione sempre più persone anche al di fuori dei luoghi di cura. Grazie al Paglio in Rosa abbiamo voluto avvicinare a questo evento importante del territorio molte persone per far capire l'importanza della prevenzione, della ricerca e della diagnosi precoce per combattere il tumore della mammella anche a fronte di un'incidenza sempre più importante. Grazie!